È una strada non costellata dal successo, quella che Gesù ci indica, esortando a prendere la croce e a seguirlo. Papa Francesco lo dice chiaramente, commentando il passo del Vangelo della Domenica, nel quale si ricorda il dialogo, anche teso, tra lo stesso Gesù e Pietro, nel quale il Maestro rivela di essere il Messia umile e servitore. È nel farsi i servi, nell'accettare anche di soffrire, che la vita cambia e si rinnova. Seguire Gesù, aggiunge il Papa, vuol dire camminare con lui, ascoltarlo, pregare, leggere il Vangelo, accostarsi ai sacramenti. Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la propria croce, tutti l'abbiamo, per accompagnarlo nel suo cammino, un cammino scomodo, che non è quello del successo, della gloria passeggera, ma quello che conduce alla vera libertà, quella che ci libera dall'egoismo e dal peccato. Si tratta di operare un netto rifiuto di quella mentalità mondana che pone il proprio io e i propri interessi al centro dell'esistenza. E no, quello non è quello che Gesù vuole di noi. E invece Gesù ci invita a perdere la propria vita per lui, per il Vangelo, per riceverla rinnovata, realizzata e autentica. Al termine dell'Angelo, se il Papa ha ricordato la beatificazione in Sudafrica di Samuel Benedict Daswa, padre di famiglia ucciso nel 1990 per la sua fedeltà al Vangelo, una testimonianza simile a quella di tanti morti, anche oggi, in nome della fede. Salutando poi gli insegnanti precari venuti dalla Sardegna, ho spiegato che i problemi del mondo del lavoro siano affrontati, tenendo conto della famiglia e delle sue esigenze.